Buongiorno Roberto, come sai non riesco ad esserci domani e mi dispiace un sacco, mi dispiace un sacco perché in sostanza è sempre stato molto utile esserci, ma devo dire che ho fatto tesoro un po' di tutti i consigli del fatto appunto che assieme si può costruire qualcosa di utile e io l'ho messo in pratica, l'ho messo in pratica perché facendo questo blog che tu conosci, ricevutafiscaliaddio.it, sono riuscito ad avere un ottimo risultato per il lavoro che sto facendo in questo momento che è in sostanza vendere registratore di cassa, quindi mi aiuta molto a essere conosciuto, conosciuto anche se non sei, anche se sei alla prima visita perché magari fai anticipare una mail dove spieghi un po' e ti posizioni in qualche modo. Comunque quello che sto facendo adesso te lo faccio vedere, sarà un impegno praticamente fino a fine anno, i primi di gennaio in sostanza e dopo tornerà un po' alla normalità.